allora intanto iniziamo a registrare vi lascio questo visibile solo per iniziare oggi proviamo a fare questo tema di esame che era il tema del primo appello dell'anno scorso ovviamente non possiamo fare quello di quest'anno perché sennò non avrebbe senso e quindi intanto se volete cominciare a prenderlo nella nostra cartella 1 weeks in week 14 c'è il tema d'esame che trovate anche sul sito web però l'ho riportato qui per comodità ok allora c'era ancora una domanda sì sì pratiche buona programmazione sì sì ok ok allora quindi ripeto per chi segue poi registrato anche per voi se lo rivedete quindi la rotella per il caricamento le righe di color diverso per gli aggiornamenti quindi segnalare immediatamente l'aggiornamento ma aspettare che abbia effetto e così via diciamo queste sono tutte buone pratiche non sono strettamente indispensabili per avere un buon tema d'esame no è chiaro che come dire se volete 30 lode magari da qualche parte che so all'avvio un loading che non è che costi tantissimo si può provare a mettere non dico in tutta l'applicazione ma che so all'avvio per esempio sì per l'aggiornamento la modifica aggiunte così via lì bisogna un po' vedere noi abbiamo fatto vedere un esempio che era quello delle righe colorate diciamo così perché veniva comodo era facile costava poco integrarle così via però uno può usare una strategia che ritiene ragionevole no anche che so bloccare il bottone e magari non so magari scrivere in attesa di aggiornamento piuttosto che colorare o piuttosto che o anche scrivere nulla diciamo se se tutto il resto va bene diciamo non è quella singola cosa che che vi come dire porta giù il voto del del progetto ok però è certamente una delle ultime cose da integrare nel senso io prima mi aspetto per avere un buon progetto che tutto funzioni quindi che ci sia l'aggiornamento se anche non c'è la riga colorata l'aggiornamento immediato voi mandate l'aggiornamento e si carica dal client dopo la risposta quindi si aggiorna dopo un po questo è il minimo che ci aspettiamo poi se siete a posto avete fatto tutto tutto quanto funziona e così via se in più c'è questa cosa che attendiamo mentre attendiamo faccio evidenziamo anche che attendiamo eccetera sarà una cosina in più non è strettamente richiesta mi verrebbe da dire il 30 lo prendete lo stesso se proprio puntate 30 lo deve essere tutto a posto e magari c'è qualcuna di queste caratteristiche diciamo non strettamente indispensabile al funzionamento dell'applicazione implementato da qualche parte ok non c'è bisogno necessariamente di inserire un ritardo lato server eventualmente lo evidenziate mentre facciamo l'orale e noi poi andiamo anche a cercarcelo nel codice perché nella prima parte dell'orale come abbiamo già detto nelle altre lezioni facciamo le prove funzionali quindi apriamo l'applicazione proviamo a fare un po di operazioni secondo quello che c'è nel tema d'esame adesso cos'è che c'è da creare una pagina creiamo una pagina mettiamo due blocchi tiriamo su giù insomma salviamo vediamo stato draft usciamo entriamo con l'utente amministratore guardiamo cosa si vede usciamo vediamo cosa si vede dall'utente normale queste cose qua no per provare un po l'applicazione e poi una volta che se tutto funziona lì intanto col tab network aperto come vi dicevo guardiamo quali sono le richieste che vanno dal server dal client al server le risposte così via diamo almeno un'occhiata no se sono ragionevoli non è che c'è tanto da approfondire quando comincia le stranezze è chiaro che io il mio collega si fermerà un attimo lì sopra e chiederà perché avete fatto in questa maniera come mai ci sono queste cose che dati viaggiano se sono diversi da quelli che ci ragionabilmente ci aspettiamo che non vuol dire che sia sbagliato però vuol dire che uno magari ha avuto una pensata sicuramente diversa da altri perché ognuno avrà le sue pensate diciamo per fare queste cose e ce le spiega e valutiamo un po insieme se sono ragionevoli oppure se sono fuori da ogni logica nel senso non posso ricaricare tutti i dati tutte le volte di tutta l'applicazione no se no cosa serve avere un server allora a questo punto per esempio no al contrario diciamo ogni volta che tocco una cosa non è necessariamente il caso di andare a salvarla sul server soprattutto se è una cosa che deve come dire temporanea sul client per esempio no e tutte queste cose qua che anche un po listato nella nel sito web del corso no sopra gli esami sopra il tema d'esame ci sono vabbè a parte l'istruzione per la sottomissione col github e le fac ma fa che sono poche diciamo diciamo spiegano come funziona l'esame e poi ci sono questi errori frequenti diciamo abbiamo tre anni di corso che oramai diciamo ci hanno insegnato tante cose come scritto qui sopra non è che sia obbligatorio che tutto sia rispettato per consegnare il tema d'esame anche se questo ridurrebbe un po quanti consegnano però vabbè questo è un problema nostro diciamo voi potete consegnare le cose in qualsiasi condizione al più sarà insufficiente no però diciamo che questa è una serie di problemi tipici che abbiamo visto nel corso degli anni e per i quali vorremmo mettervi in guardia no alcuni sono tipicamente degli errori gravi e quindi aveva scritto in generale portano a perdite tante perdite di tanti punti altri invece sono più dei delle cose e comode no quindi tipo buone norme diciamo da rispettare perché è un po più facile far la correzione insieme ok cioè da soli prima una volta la facciamo da soli e poi insieme adesso la facciamo solo insieme correttamente chiaramente consegnare va bene come scrivere il ritmi scrivere qualcosa che sia ragionevolmente leggibile e così via quindi senza esagerare ma senza neanche dimenticarsi qualcosa e così via niente di particolare sono tutti consigli di buon senso e non c'è niente di nuovo in queste cose però diciamo sono errori piuttosto frequenti dicevamo sono dimenticato dove siamo partiti non stavano dicendo proviamo la vostra applicazione quindi stavamo facendo i test funzionali poi a un certo punto diciamo va bene abbiamo più o meno testato le varie caratteristiche adesso andiamo a vedere come è fatto il codice perché come è fatto il codice diciamo da un lato ci consente a noi anche di valutare come è fatto il codice ma dall'altro ci consente di valutare se l'avete fatto effettivamente voi no andremo in qualche pezzo di codice vi chiederemo dove trovare certe funzionalità come si chiamano i componenti di solito non andiamo a casa ma abbiamo visto una stranezza nell'interfaccia ce l'andiamo a vedere nel codice non so c'era una cosa che non si aggiornava per sfortuna oppure una cosa che funzionava ma era un po' strana andiamo a cercare quel componente andiamo a dare un'occhiata a questo codice cosa avete scritto perché avete adottato una scelta piuttosto che un'altra e così via ok niente di particolare e poi facciamo due o tre verifiche che facciamo sempre nel codice come sono state implementate la sicurezza sul server sul client e le varie user effect che di solito sono le cose un po' più critiche no queste cose andiamo un po' a vedercele e poi alla fine ci siamo fatti un'idea del tema d'esame e vi diamo un voto ok c'è ancora una domanda è una valutazione complessiva diciamo come abbiamo scritto nelle regole d'esame come funziona la valutazione dell'esame solo sui moduli eccetera no in realtà è una valutazione complessiva nel senso che noi ci guardiamo il progetto e diciamo 26 punti su questi 32 totali che sarebbero diciamo il 30 e lode sono assegnati al progetto e 6 alla discussione orale se uno parla e non sa neanche a momenti distinguere una promise da non lo so da qualcos'altro che c'è nel codice diciamo non è un bello orale ok anche se il progetto funzionava anche se conosce il suo progetto e se uno non so ma mentre si discute si capisce questa cosa non è che c'è un'interrogazione a parte orale per questa cosa no cioè se uno dice perché dov'è lo stato di questo form è lì che si arrabatta e poi a un certo punto si lo trova va bene ma perché ha messo questa inizializzazione allo state ma dunque dunque aspetta perché l'inizializzazione dunque ecco questo non è un bell'orale no cioè dove sta perché poi io comincio a dire dove sta l'inizializzazione di questo stato no uno dovrebbe rispondere immediatamente sta nel parametro passato alla use state che viene usato solo la prima volta che si entra nel componente ok questa è una risposta rapida, veloce, chiara, breve che va benissimo durante l'orale se uno comincia a dire dunque aspetti lo use state dove l'avevo messo, cosa gli avevo messo eccetera o se qualcuno gli è venuto in mente di passargli una props dico perché ha passato una props come inizializzazione dello stato che avevano detto che era una cosa in generale da non fare che però non è detto sia sbagliato se però uno ha una ragione lo spiega chiarisce come mai come fa a inizializzarsi lo stato perché si inizializza lo stato correttamente si ricrea il componente oppure c'è un altro use effect che comunque si incarica di riaggiornare lo stato quando si rimonta il componente e così via o anzi non si rimonta si modifica il valore della props perché dipende dalla props ha dato una risposta orale decente e sa che cosa sta succedendo nel suo codice se uno invece si a forza di fare l'ha fatto funzionare però non ha chiaro come sta funzionando perché ce l'ha stato lo use effect interagisce contro l'ora perché non si potrebbe inizializzare lo stato perché si inizializza solo la prima volta e così via questa discussione orale varrà meno questo è un esempio ma possono essere altre cose di solito sono un po' le use effect che sono la cosa un po' più complicata che c'è nel codice quando viene richiamata la callback della use effect in questo caso perché non si viene richiamata perché ha messo un if dentro la use effect perché non voleva richiamarla se non si verifica la condizione qual era il problema di richiamarla due volte e così via cose che vengono mentre si discute non è che sia un'interrogazione adesso mi dice quali sono i parametri della use effect ci si aspetta che queste cose si sappiano e soprattutto si cerca di capire come mai si sono fatte le cose in una certa maniera perché se avete fatto il progetto in una certa maniera avrete fatto dei ragionamenti ok tutto qui si come si usa il tag final ci sono le istruzioni quindi ok quindi voi avete fatto il clone del vostro repository anzi scusate prima di tutto avete usato il link dove è andato il link eccolo qui questo è il link per creare cioè per accettare l'assignment che è indispensabile per creare il reposito di github quindi ci clicco sopra adesso mi dirà vabbè speriamo che sia quello giusto vediamo se mi spunta di qua il codice qui mi sa che non mi è autentico da un po' dove è andato inbox uffa no non mi viene sul codice perché non mi viene sul codice ah perché questo non è in rete no ho acceso il wifi comunque accettate questo assignment cosa che io adesso non potrò fare però ne prendiamo poi uno qualsiasi ok github 1 4 6 no tanto one time non serve niente allora dovete avere il github autenticato quindi dovete giocare già un account github e qui mi dice scegli un un nome scegliete il vostro se vi siete sbagliati mi hai mandato un'email perché lo devo disassociare io e qui non c'è Enrico Masala adesso non ne scelgo uno perché sennò ne blocco uno dopo che avete scelto il vostro utente forse c'è ancora un bottone ok accetta l'assignment vi viene dopo qualche secondo fornito un link che è il link al vostro repository ok adesso ne guardiamo uno in questo repository forse è maiuscolo si ok adesso non me ne voglio chi viene fuori adesso ne prendo uno a caso non sappiamo cosa ci sia dentro io li vedo tutti ovviamente voi vedete solo il vostro ok e qui questo è il vostro repository andate a clonarvelo come volete anzi non come volete l'https di solito non lascia scrivere quindi la cosa migliore è crearsi la chiave ssh come dalle istruzioni che qualcuno ha mandato su telegram comunque mettete chiave ssh su google mettete poi la chiave pubblica sul vostro github e avete accesso in lettura e scrittura al vostro repository ve lo clonate fate tutti i vostri lavori fate un commit e un push per esempio usando il visual studio code che non ho ancora aperto una volta che avete fatto commit e push le istruzioni per mettere il tag che sono queste quelle che vedevamo prima quindi avete fatto commit push dovete mettere il tag final il tag final si mette come c'è scritto nelle istruzioni nel tema d'esame che per l'altro è sempre uguale per tutti quanti quindi cioè le istruzioni sono uguali dov'è il tema d'esame volevo farvi vedere il tema d'esame di quest'anno si questo qui ok guardiamo quello su google va bene in fondo c'è scritto come fare adesso deve caricarsi ok questo qui anzi queste sono le istruzioni avete fatto il vostro commit push dall'interfaccia web dall'interfaccia del visual studio code a mano come volete non importa una volta che avete fatto il push potete andare a vedere sul vostro repository se c'è tutto entrate adesso io non lo so spero che non ci sia niente di particolare qui hanno già messo qualcosa ok andate a vedere che ci sia tutto che sia tutto a posto dall'interfaccia web così siete sicuri di quello che c'è e poi e poi se volete aprire il terminale date questi due comandi ok se no andate dall'interfaccia web e e lo mettete dall'interfaccia web ok quindi dovete prendere l'ultimo commit e adesso non so più se c'è un bottone o c'è qualcosa main tags mi sembra che avessimo scritto anche la procedura da qualche parte per fare il tag comunque dall'interfaccia web si può mettere il tag scrivete final selvate finito ok adesso non mi ricordo più come si fa dall'interfaccia web ma è tanto semplice dalla dalla linea di comando una volta che l'avete fatto potete tornare dove eravate prima e su sui tags anziché niente vi vera ah ecco forse di qua che si fa ok adesso non lo faccio perché è repository di qualcuno no però ehm se scrive final ok e poi vedrete qui nei tags che come pare final associato a un commit boh finito ok noi il giorno dopo della scadenza ci scherichiamo tutti i repository quindi ce li cloniamo eh prendiamo solo quelli col tag final perché perché voi potete pacioccare come volete sul vostro repository eh e magari poi a un certo punto decidete no non è pronta non mi piace non la consegno come fate a dircela non mettete final e noi assumiamo che voi non vogliate consegnare ok se avete messo final e non volete venire boh ho ci mandato un'email o direttamente non venite all'esame finito ok se ci mandate un'email è un po' più comodo perché così magari non creiamo il buco e se c'è qualcun altro che ha bisogno di farlo orale è un po' più in fretta magari riusciamo a riorganizzare un po' meglio le cose ok quindi tutto qui tag final mi raccomando solo che il final sia scritto come metto tutto minuscolo senza virgolette senza spazi senza altri caratteri proprio f i n a l tutto minuscolo basta ok associato al commit da valutare che di solito è sempre l'ultimo no? perché è l'ultima versione che volete far valutare ok fine se poi volete fare quello che facciamo noi poi potete fare questi comandi in una nuova cartella e vedete cosa avviene fuori controllate che ci sia tutto che giri eccetera ok ma questo è opzionale nel senso che è solo per verificare riverificare che tutto funzioni ok io direi che possiamo magari iniziare con la lezione poi mano a mano che andiamo avanti ovviamente ci saranno dei dubbi delle cose quindi volentieri rispondiamo oggi non guardiamo questo testo io ho già dato un po' di risposte se mi dimentico magari richiedete su telegram e a un certo punto chiuderemo e renderemo definitivo questo testo perché non è ancora definitivo perché magari aggiungiamo due paroline in linea con le risposte che abbiamo dato così che sia chiaro nel testo che effettivamente che so intendevamo c'era qualcosa di dubbioso non mi ricordo più tipo un amministratore può vedere una pagina draft magari non lo so per dire aggiungiamo può vedere tutte le pagine incluse draft per dire nel testo ma non è che facciamo modifiche sostanziali facciamo modifiche di chiarimento in linea con i chiarimenti che stiamo dando ok perché perché comunque noi abbiamo un'interventazione del testo quando lo leggono cento e più persone come voi più di altri corsi eccetera magari qualche dubbio su qualche aspetto che potrebbe essere chiarito meglio sorge e quindi faremo solo queste piccole modifiche ok poi potrete continuare a chiedere se avete dubbi su telegram ok e non più sul documento che lo blocchiamo lo rendiamo definitivo però diciamo in questo periodo è un po' più aperto perché così c'è un po' più di flessibilità nel chiedere eventuali dubbi ok allora oggi come detto non lavoriamo su questo documento che è il tema d'esame per il primo appello ma lavoriamo su quello dell'anno scorso primo appello ok quindi non prendiamo un appello diciamo il quarto appello il quinto appello cose che c'erano che lasciatemi dire forse sono un pochettino più semplici ogni tanto cerchiamo di non farlo troppo però come dire ogni tanto può capitare quindi fateci una pensata visto che come vi dicevo siete 180 prenotati possiamo anche andarlo a vedere in diretta da qualche parte c'è eravate almeno 184 che è una cifra notevole gli anni scorsi avevano sui 110 120 è vero che magari quest'anno c'è qualcuno in più scritto al corso però insomma ci richiede una settimana minimo di orali ok perché considerate che non abbiamo solo questo corso c'è un altro corso di cui devo fare l'esame ci sono degli impegni istituzionali c'è il CPD c'è una serie di cose quindi non è che possiamo fare orali 8 ore al giorno per 5 giorni di fila perché non c'è solo questo corso ok va bene quindi andiamo a darci un'occhiata a questo tema d'esame che si intitolava piano degli studi ovviamente qui abbiamo la versione finale quindi come quest'anno abbiamo fatto questo passo e lo facciamo sempre a tutti gli appelli questo passo di proponiamo il tema d'esame poi se ci sono dubbi domande particolari da qualche parte andiamo a chiarire poi evidenziamo cosa abbiamo chiarito in rosso i vari dubbi che più o meno sono usciti qui c'era da progettare e implementare un'applicazione web per gestire il piano di studio di un studente universitario che deve soddisfare le seguenti specifiche l'università offre una serie di corsi ogni corso caratterizzato codice univo con i sette caratteri un numero intero di crediti ecco quando ci sono questi temi d'esame questo è un po' particolare è più vicino a quello che di solito è sperimentato non è che vi chiediamo di replicare esattamente cosa vedete sull'interfaccia web del Politecnico bisogna un attimo capire cosa è effettivamente richiesto e cosa invece può essere tranquillamente lasciato fuori se avete dei dubbi chiedete noi di solito rispondiamo se non è specificatamente richiesto non è da gestire ok tipo non so magari c'è anche la descrizione del corso qui non c'è la descrizione del corso nel testo cerchiamo di semplificare è un progetto che dovete fare in tre settimane quindi cerchiamo di limitarci alle cose essenziali ok il piano di studi di uno studente è un sottinsieme di corsi offerti dall'università il totale di credito di corsi inseriti in piano di studi deve essere compreso da 60 e 80 estremi inclusi per l'opzione full time 20 o 40 estremi inclusi per il part time un corso può essere soggetto a uno o più vincoli riguardo sull'inserimento del piano di studi un corso può essere incompatibile con uno o più altri corsi quindi non possono essere inseriti insieme nel proprio piano di studi un corso obbligatorio che quindi per inserire questo corso devo averne già inserito un altro nel piano di studi un corso può avere un massimo numero di studenti che possono inserirlo nel piano di studi ok e poi c'è una descrizione più o meno di come deve diciamo apparire l'applicazione a chi la usa nella pagina iniziale tutti gli utenti possono vedere la lista completa dei corsi quindi senza login la lista dei corsi deve essere visualizzata in ordine alfabetico ecco non scordatevi queste cose per favore perché sennò finisce che rispetto a chi l'ha fatto in ordine alfabetico un punticino dobbiamo tirarlo via lo so che sono solo una riga di javascript sort eccetera però per favore non scordatevi proprio perché è solo una riga non vi costa nulla però fate attenzione per ogni corso la lista mostra la sua descrizione il codice numero ricrediti eccetera eccetera quello che viene visualizzato cioè tutte le varie proprietà ogni descrizione di corso può essere espansa richiusa dall'utente per mostrare i dettagli i corsi incompatibili e propedeutici è necessario visualizzare almeno il codice corso quando espandete questa lista questa era una domanda cosa visualizzo quando espando la lista diciamo almeno il codice corso se volete anche gli altri dettagli però non è richiesto ok poi dipende se ce li avete magari basta mezza riga di codici e visualizzate anche il nome se però non ce l'avete magari può essere scomodo allora ci basta il codice corso una volta autenticato quindi passiamo alla versione autenticata l'utente continua a vederla la stessa lista completa dei corsi e nella stessa pagina ecco mi raccomando se c'è scritto stessa pagina vuol dire stessa pagina clicco e vado in un'altra pagina se il piano di studio non è ancora stato creato l'utente può creare uno vuoto specificando l'opzione full time o part time questa lista vuota può essere editata secondo le istruzioni nel seguito se un piano di studio è stato creato e salvato in modo persistente esso dovrà essere immediatamente mostrato nella stessa pagina e può essere editato come nel seguito ok l'edit in piano di studio avviene sempre nella stessa pagina perché ci tenevamo che faceste tutto nella stessa pagina perché così ci sono i componenti ci sono gli stati modificando gli stati si aggiorna la visualizzazione proprio secondo quello che chiede React se vediamo un po' come nel tema d'esame attuale c'è da spostare in su e in giù questi blocchi se schiaccio su voglio che vada su subito per esempio l'editing e il piano di studio avviene nella stessa pagina mostra sempre il numero di credit che corrisponde al totale quindi ogni volta che faccio una modifica si aggiorna al totale i valori di minima e massima da rispettare quindi che sono fissi perché dipendono da sopra se era un piano di studi full time o part time 60, 80, 20, 40 consente di aggiungere un corso solo i corsi che soddisfano tutti i vincoli possono essere aggiunti quindi secondo i vincoli che si diceva prima l'incompatibilità eccetera consente di rimuovere un corso al piano di studi se ciò non viola alcun vincolo di propedeuticità cioè non posso togliere il corso obbligatorio se c'è già il corso che dipende da quello se un corso non può essere aggiunto deve essere marcato in maniera differente nella lista completa dei corsi e l'applicazione deve indicarne la ragione durante la sessione di editing l'utente può salvare il piano di studi in modo persistente questo salvataggio no salvataggio rimpiazzerà la precedente versione l'utente può anche annullare le modifiche per correnti in tal caso la copia persistente se presente perché può anche non esserci ancora un piano di studio non deve essere modificata quando si salva il piano di studio deve essere validato per verificare il rispetto di tutti i vincoli in aggiunto l'utente può cancellare l'intero piano di studi e bon ok questo testo forse era un po' più specifico di quello che avete voi su cosa si deve vedere nel vostro è un po' più libero che cosa si deve vedere quando e dovete ragionare un po' voi sulle visualizzazioni che volete fare ok il resto delle istruzioni sono le stesse di tutti i temi d'esame ogni tanto sono leggermente aggiornate per chiarezza principalmente ok ecco non dimenticatevi che poi ci sono dei requisiti del database nel senso che vogliamo che sia precaricato con qualcosa per poter fare dei test ragionevoli se non c'è l'utente amministratore poi come lo creo se non c'è un sistema per creare gli amministratori divento matto e quello sicuramente vi fa perdere punti però si tratta di mettere cioè di creare nel database questo utente perché così quando andiamo a testarlo non stiamo 5 minuti a perdere tempo a inserire una roba nel database se è già pronto guardiamo quello con l'amministratore utente password e lo proviamo ok quindi fate attenzione a questi vincoli ma di solito non è mai stato un problema uno fa attenzione anche perché deve provarlo se lo prova è chiaro che ha bisogno di avere tutti i tipi di utenti e così via questo era un po' specifico c'era anche la lista di corsi così partivamo da una situazione abbastanza nota e interessante da provare il vostro non è così specifico ma va bene lo stesso quindi allora cosa si fa quando abbiamo un tema di esame da dove partiamo allora perché qui diciamo week 13 diciamo che io apro invece week 14 ok quindi questo è il reposito riclonato dell'esame in cui dovreste trovarci dei client app che non fa niente altro se non farvi vedere la rotellina l'iconina di white e il server che è proprio un server minimo ecco fate solo attenzione che vi chiediamo di usare index.js non server.js come in lab perché abbiamo sempre scritto tutti i testi dell'esame così quindi mi raccomando perché poi noi abbiamo uno script che ci lancia client e server se no di nuovo dobbiamo andare a perdere tempo poi proviamo l'applicazione non si vede niente perché non si vede niente perché il server non è partito perché banalmente l'avete chiamato con un nome diverso quindi index.js ci scrivete dentro il vostro codice fate copia e incolla tanto dovrete dovrete farlo comunque ok il testo l'abbiamo letto allora da dove partiamo io vi consiglio di partire dal readme questo è il readme che trovate online lo personalizzate esame 1 titolo eccetera vostro amaticolo vostro nome vostro cognome non lasciateci last name first name cioè è il vostro repository lo troveremo però un po' più comodo se dobbiamo andare a cercare delle cose tra i vari repository allora dobbiamo pensare a ecco diciamo pure ai primi tre elementi del readme perché? perché sono sono quelli che definiscono come funziona l'applicazione noi dobbiamo pensare a una vista o a delle viste che sono le root poi dobbiamo decidere come manteniamo i dati sul server e come interagiamo tra il client e il server quindi tra l'applicazione e il server ok? una volta che abbiamo deciso queste come fare come risolvere queste queste difficoltà possiamo cominciare implementare l'applicazione secondo la nostra idea poi non è detto che alla prima volta noi troviamo la soluzione perfetta che va bene per risolvere tutto no? perché magari ci siamo scordati di un pezzo rileggiamo il testo ah ma erano più di un corso che era incompatibile aspetta devo modificare qualcosa oppure c'è un solo corso propedeutico va bene ok c'è scritto uno un solo allora faccio tutto non c'è bisogno di averne più di uno propedeutico ok oppure banalmente mi sono scordato del corso propedeutico adesso dove lo metto devo un po' riragionare su tutto quello che ho pensato e andare a vedere se tutto quello che ho pensato si adatta a questa cosa che avevo dimenticato e così via ok quindi è un processo iterativo quindi noi partiamo con un'ipotesi per tutto per la visualizzazione per l'API per il database che sono le tre cose importanti e se ci siamo scordati qualcosa provando l'applicazione ci accorgiamo che ci manca un pezzo non so come far vedere questo perché in realtà sarebbe meglio una nuova pagina e così devo ritornare sulle mie scelte e pensare se potevo far diversamente e se ha senso far diversamente e così via ok quindi sostanzialmente dobbiamo iniziare io vi consiglierei di iniziare sostanzialmente su un foglio di carta e neanche sul computer proprio ah no hanno legato la penna questa non c'è e mi sono portato la tavoletta proprio per fare questa cosa quindi facciamo in realtà piacerebbe il foglio bianco non quello vabbè ma c'è le righe non fa niente esame bozza ok allora prendo un foglio bianco e devo ragionare come deve apparire la mia applicazione prima cosa no quindi ho la mia finestra del browser e allora c'è una sezione di autenticazione di solito c'è quasi sempre c'è in questo tema di esame c'è nel vostro quasi sempre c'è perché diciamo senza l'autenticazione abbiamo un'applicazione web a metà cioè c'è solo un utente che può usarlo ma se io devo scrivere su un database devo dire chi sono quindi per forza che prima o poi c'è un'autenticazione quindi ipotizzo se qualcuno ha altre idee possiamo ragionarci sopra ipotizzo di avere un header un po' come ho fatto nell'ultimo esempio in aula no in cui boh posso fare login si legge si login e poi boh qual è l'utente ok e va bene e questa è la parte semplice poi arrivo e poi non so più cosa fare perché mi sono già dimenticato il testo quindi dovrò rileggermi tante tante volte il testo quindi allora c'era a pagina iniziale un page tutti gli utenti anche non autenticati possono vedere la lista completa dei corsi offerti dall'università quindi io arrivo sull'applicazione dunque vediamo se riesco a farlo dall'altra parte arrivo sull'applicazione e ci sarà una lista di corsi no ok perché perché questo è quello che c'è scritto nel testo eh niente di poi poi ci sono i dettagli e ogni descrizione può essere espansa richiusa va bene ok allora diciamo che ogni descrizione in qualche maniera c'è un bottoncino che me la fa aprire no per aprire quindi diciamo così per aprire descrizione ok poi eh cosa c'era ancora ogni descrizione può essere espansa richiuse ogni volta autenticato l'utente continua a vedere la lista completa dei corsi in una home page logged in in questa stessa pagina se il piano di studio non è stato creato l'utente può creare uno vuoto e questa lista vuota può essere editata ok e se il piano di studio è già stato creato dovrà essere immediatamente mostrato nella stessa pagina ok quindi allora di nuovo pensiamo allora qualcuno fa il login eh dove è andato qualcuno fa il login quindi avevo un'altra schermata quindi non autenticata autenticata qualcuno ha fatto login mettiamo che c'è logout come abbiamo fatto qui c'è lo user utente eh come prima come faccio a mostrare tutto quanto insieme devo decidere una visualizzazione a me personalmente se ci pensate come come volete usare l'applicazione non so come sia fatta quella sul vostro portale la didattica probabilmente è diversa però non so potrei pensare di dividere in due e qui avere i corsi no? corsi come prima diciamo così come prima prima e qui a destra piano di studi studi quindi con un bel bottone crea ho ho i corsi nel mio piano di studi no? ci può stare eh stiamo facendo una cosa che è ragionevole boh direi di si nel senso che noi dobbiamo anche poi pensare che questa roba la dobbiamo implementare non nemmeno possiamo fare viste così a casa no? quindi questo questo potrebbe essere un componente il componente componente questo verde forse si vede poco però ehm prendiamo un altro colore grigio questo è il componente corsi ok che ricicliamo qui no? quindi i componenti sono fatti per essere riciclati se no non servono a niente e poi avremo non so il nostro componente boh piano di studi piano studi e i corsi e i corsi per ora boh nel senso riciclo l'altro passandogli solo i corsi del piano di studi o hanno altre funzionalità boh non lo so in questo momento devo ancora un po' pensarci ok? allora andiamo a vedere se avete altre alternative ditemi eh magari finiamo diciamo queste pensate delle visualizzazioni allora devo poter fare allora c'è un numero totale di crediti ma questo non è un problema direi nel senso da qualche parte ci mettiamo il nostro totale eh ma una volta che ho la lista se la proprietà del corso include il numero di crediti farò un totale no? map reduce quello che vi pare fate un for se non sapete cosa fare sull'array fate più più uguale a partire da zero avete il totale ok? ehm quindi ci sarà questo totale da mettere ma questo non mi preoccupa in questo momento aggiungere un piano al corso aggiungere un corso al piano di studi rimuovere un corso al piano di studi no? quindi ehm quindi da qualche parte dovrà esserci un bottone o un link o qualcosa diciamo io idealmente qui metterei i bottoni più per aggiungere al piano di studi e di qua metterei dei bottoni meno che servono a togliere il corso dal piano di studi no? mi sembra abbastanza ragionevo visto che li vogliamo tenere sulla stessa visualizzazione da una parte tolgo perché non è che aggiungo perché aggiungo dalla lista generale e tolgo dal piano di studi quindi questi bottoni diciamo se sono dentro il componente corsi chiaramente il componente corsi dovrà sapere se sono autenticato o no se non sono autenticato non spuntano i bottoni se sono autenticato spuntano i bottoni e spuntano i più solo sui corsi che non sono nel piano di studi ok? quindi sto già facendomi una mezza idea di come deve funzionare i componenti principali e la mia applicazione poi aggiungi togli cosa ah no cosa possiamo ancora fare un corso non può essere aggiunto deve essere marcato in maniera differente e l'applicazione deve indicarne la ragione quindi nel momento in cui sono in questa schermata devo avere una quindi facciamo il più il grigio l'ho già usato vabbè lo facciamo arancione no? così il corso non può essere aggiunto anziché il più ci sarà un altro simbolo o c'è un più sbiadito insomma c'è un più disabilitato quello che volete no? queste sono le cose che dovete poi decidere a livello fine nell'interfaccia no? c'è chi farà il bottone disabilitato c'è chi la toglierà c'è chi scriverà non aggiungibile non 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 inseribile e così via ok? ognuno di voi boh deciderà cosa gli piace mettere o le piace mettere e la ragione la ragione ci sarà scritta da qualche parte qui sotto quindi dobbiamo considerare che non è solo una lista di corso ma una lista di corso in cui per ogni corso devo poter aggiungere una stringa o qualcosa che mi dica la ragione che dovrò calcolare ogni volta che faccio la visualizzazione in questa prima ipotesi spero sia giusta e se non è giusta ci ripensalo poi dopo come calcolare questa informazione ok e poi mi sono scordato qualcosa sì una cosa me la sono scordata ma diciamo se me la sono scordata ci penserò dopo perché non è che lo so in anticipo diciamo io vi faccio notare che mi sono scordato cioè in realtà non avevo ancora letto devo poter salvare no? quindi ci sarà un bottone salva se salvare in maniera persistente questo vuol dire salvarlo sul database sul server no? perché è l'unico posto che è persistente per un'applicazione il database ok? quindi torniamo al nostro disegnino e mettiamo ancora un bottone salva quindi non so salva adesso mi esce fuori no? ma è così che succederà perché fate un disegno avete una pensata e poi dovete fare spazio per le cose che state inserendo e così via ok? bene quindi c'è un salva e poi poi mi sembra basti no? quando si salva il piano di studio deve essere validato per il rispetto di tutti i vincoli ah beh ce l'ha nulla si ce l'ha nulla ok e il cancella ok quindi ci saranno tre bottoni tre link tre cose di questo tipo eh? quindi c'è il salva annulla e poi abbiamo detto cancella o delete non so del ok più o meno dovremmo esserci con l'interfaccia adesso noi abbiamo fretta qui a lezione per cui non è che ci rileggiamo tutto ma voi siete a casa tranquilli vi rileggiate il testo guardate di non esservi scordato nulla almeno a prima vista no? buon questa è l'interfaccia finita no? perché poi cosa faccio? lavoro faccio più meno eccetera ma la la schermata è sempre quella no? un po' come nel tema d'esame di adesso no? vi dicevo prima ci sono i blocchi va su va giù ma non è che cambia schermata quella è la vista allora abbiamo sostanzialmente due viste va bene c'è il login ok in realtà ecco mi sono scordato il login questo è il login ma il login non è niente di speciale potete prendere quello che abbiamo a lezione poi ve lo metto a disposizione questo file eh prendete quello che abbiamo a lezione va bene eh quindi user pass user pass eh ok no? e annulla ecco mi raccomando non scordatevi mai un bottone annulla un link per tornare indietro perché se no poi che faccio se ho schiacciato il login mi sono sbagliato e non volevo fare il login sono costretto a ricaricare l'applicazione se non c'è la nulla ok a ripartire da zero c'è una domanda una cosa che non mi è chiara sì 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 no no potete fare a livello client nel senso eh sì nel senso che il server beh l'autenticazione per forza la deve fare col server ma il resto tipo diceva per controllare se il bottone può essere attivato o no per aggiungere il corso no per esempio e questo lo fa quando nel codice del componente deve avere una logica che decide se farlo vedere o no disabilitarlo lasciarlo attivo e così via però cioè non è che può tutti i momenti andare a chiedere al server cosa fare cioè c'è una parte client e questa è la parte client perché il server una volta che le ha detto quali sono i corsi e inseribili con le caratteristiche no quindi precedenza e incompatibilità i credit eccetera e lei al piano di studio ha tutti gli elementi per farsi questo calcolo non è che necessariamente deve farlo il server ok questa è un po' una scelta come dire che che noi possiamo possiamo in certa qual misura fare noi però se lei lo facesse sul server cosa succede proviamo ecco proviamo a ragionare su questa cosa diciamo che è il server che ci decide che decide che io sono utente autenticato c'è la lista dei corsi e c'è la lista che ho nel piano di studi quindi il server potrebbe fare questo calcolo potrebbe dirci guarda questo corso nella lista generale non è inseribile no però che succede nel momento in cui io faccio una modifica sul client io questo calcolo lo devo rifare sul client perché ho messo un corso metto un nuovo corso che diventi incompatibile con altri quindi altri devono diventare non inseribili no quindi o questo calcolo lo faccio sul client lo posso fare immediatamente oppure devo dire al server ho inserito un nuovo corso allora prima di tutto il server deve decidere è inseribile o no se è inseribile deve rifarmi il calcolo di quali sono i corsi inseribili o no con le varie motivazioni per cui non sono inseribili eccetera che chiedevamo di scrivere e così via però considerando che io ho detto che c'è un bottone salva per salvare in maniera permanente il piano di studi allora cosa sto facendo se vado a fare una modifica sul server dicendo ho inserito questo questo corso nel mio piano di studi che piano di studi è? non è quello definitivo perché io non ho schiacciato salva quindi se io vado a fare cose sul server potrei farle ma succede che devo avere sul server allora anche un piano di studi temporaneo se ho spostato tutta la logica sul server ma qual è il vantaggio di fare questa cosa? onestamente in questo momento qui non la vedo perché? perché ho tanto traffico tra il client e il server perché per ogni azione devo andare a chiedere al server cosa fare no? che non è impossibile si può fare però devo avere degli end point cioè dell'API apposta per fare queste azioni e decidere cosa fare in risposta a queste azioni e in più devo avere questo piano di studi temporaneo sul server che è in aggiunta al piano di studi definitivo che è quello permanente quando salvo ok? quindi in teoria si può fare tutto in pratica noi avevamo fatto una pensata diciamo per questo tema d'esame che è più o meno quella che vi ho scritto qui lei lo sta raddoppiando no? può farlo non è che all'esame diciamo se ha fatto tutto bene ha fatto le cose per bene c'è questo piano di studi temporaneo ci sono le API scritte bene eccetera la penalizziamo perché? perché se è fatto tutto bene tutto ben pensato ci può stare ok? però si è raddoppiato il lavoro perché? perché io adesso diciamo passo all'API quindi all'API che devo scrivere lato server beh prima le route un attimo però poi l'API che devo scrivere lato server io avevo non so 3 o 4 API crea piano di studi modifica piano di studi caccia piano di studi dammi la lista di corsi no? 4 più o meno adesso spero di non scoprire ma il login basta copiarlo nel senso non c'è niente di speciale nel login se invece faccio come diceva o aggiunge un corso piano di studi no? e e salvalo nel piano di studi temporaneo dammi il piano di studi temporaneo e boh queste due API e poi cancella piano di studi temporaneo boh non lo so forse lo posso cancellare quando salvo quello definitivo devo un po' pensarci a questo ok? quindi su 4 API che sostanzialmente andavano bene per risolvere questo problema questo tema d'esame io ne ho già 7 e non sono semplici da scrivere perché ho portato dentro la logica dentro serve tutta la logica che potevo scrivere anche lato client di calcolare le incompatibilità eccetera ok? per cui io sarei per tenerlo sul client perché? perché è più semplice no? perché nel momento in cui lei ha fatto un'azione no? deve semplicemente capire se questa azione si può fare o no e ha già tutta la lista dei corsi caricata perché avrà uno stato con la lista dei corsi e le incompatibilità avrà uno stato con il suo piano di studi fa la modifica se si può fare ed è tutto immediatamente aggiornato se invece ha due API da chiamare deve fare l'azione chiamare l'API vedere cosa risponde l'API sulla base di cosa risponde l'API aggiornare l'interfaccia dire si può o non si può tirare fuori il motivo e così via e quando contatta il server poi esce di nuovo fuori il problema che si diceva prima ci metto il loading cosa faccio nel frattempo che aspetto la risposta del server e così via se è un'azione che si può fare lato client possiamo tranquillamente lasciarla lato client non come nel tema d'esame adesso del primo appello di nuovo ci sono stati blocchi da spostare e poi tendo una freccia su una freccia giù quando cliccate si sposta su e giù nel client non c'è bisogno di andarlo a dire al server a un certo punto dirò che la pagina non mi ricordo più cosa c'è scritto nel testo ma dirò la pagina ok la salvo no in stato draft in stato come era pubblicato eccetera boh ho sta lista la prendo e la porto sul server va bene ogni tanto devo salvare qualcosa però non è che ogni cosa che tocco deve andare sul server ok spero di aver reso l'idea eh si cioè soprattutto cercate cioè prima di fare una cosa che vi raddoppia il lavoro che dovete fare piuttosto chiedete eh non è che possiamo dare la risposta tipo fai così però se uno fa una domanda tipo ma quando faccio una modifica al piano di studi devo anche immediatamente salvarla sul db a questa domanda possiamo tranquillamente rispondere e noi risponderemo non è richiesto che vuol dire fate tranquillamente le cose sul client o non è richiesto perché tanto c'è il salvataggio alla fine no se non ci fosse il salvataggio allora sarebbe diverso no perché poi quando salvo il piano di studi allora finisce che lo devo salvare tutte le volte che ho fatto una modifica allora ci poteva stare questo questo sistema però era un'applicazione che aveva un meccanismo di funzionamento diverso no un po' come il google il google doc no se voi scrivete una cosa si salva da solo subito quello salva sempre un po' perché vogliono prendervi i dati ma anche perché così non avete il bottone di salva no è un modo di funzionare diverso noi abbiamo inserito il salva e il il cancella eccetera ci sembrava una roba di complessità ragionevole se però diciamo volete salvare ogni volta che toccate qualcosa state aumentando molto la complessità di tutto quanto no e avete sempre tre settimane non è che diamo cinque settimane perché uno ha deciso di fare più API ok quindi piuttosto chiedete non è che sempre possiamo rispondere però se diciamo possiamo mettervi sulla strada del cercare di non complicare l'applicazione inutilmente lo facciamo volentieri per voi e anche per noi nel senso che più API ci sono più impastecciata l'applicazione più tempo ci va a guardarla si si o inglese italiano come volete fa lo stesso questo è il corso in italiano per cui siete liberi di fare tutto in italiano io ogni tanto faccio qualcosa in inglese così ma diciamo fa lo stesso il resume è presentato tutto in inglese perché lo condividiamo anche col corso in inglese ma voi potete scrivere tranquillamente tutto in italiano vi dicevo solo se lasciavate magari i titoletti no API serve tanto API serve non si può tradurre ok root questi titoletti potete lasciare quello che volete però potete scrivere in italiano tranquillamente questo corso in italiano va benissimo ok quindi contenuto della pagina e anzi adesso possiamo anche farlo guardate tanto ecco allora abbiamo questo questo sketch di pagine quindi noi dobbiamo dalle pagine definire delle root ok e poi andiamo a definire delle API perché lo facciamo dalle pagine definire le root perché fondamentalmente una root è una visualizzazione cioè una pagina ok allora io vi consiglio di lasciare sempre una root di login ok login boh login pagina pagina per fare il login ok niente di speciale poi dove che abbiamo messo ok e poi e poi abbiamo la pagina principale pagina pagina principale diciamo mostra la lista completa dei corsi quando si arriva ok su sito ok quindi questa queste sono queste due pagine non autenticato e login ok e l'autenticata boh vedete un po' voi eh possiamo dove è andato il mi si chiude no qui eh possiamo farci una root boh autenticata out sta di plan ci può stare ci può stare non è indispensabile eh perché perché nel momento in cui noi sappiamo se l'utente è autenticato o no sulla stessa root possiamo far vedere una cosa piuttosto che un'altra cioè queste due visualizzazioni non autenticata e autenticata potrebbero stare tranquillamente sulla stessa root ma come abbiamo fatto in ehm a lezione e se non sbaglio fate anche il laboratorio no poi vabbè avevate i filtri quello è un altro discorso però la root senza il filtro il filtro all quella di default fa vedere niente o qualcosa secondo che uno è autenticato oppure no ci può stare qui a vostra scelta nel senso che eh diciamo che eh devo se faccio più root poi devo gestire magari dei redirect da una root e l'altra se sono su slash se sono autenticato vorrei andare sulla pagina piano di studi quindi sulla root piano di studi eh se da piano di studi faccio logout vado a finire sulla pagina eh slash no quindi devo mettere un meccanismo di navigazione se ho una root sola questo meccanismo di navigazione non mi serve più perché quando aggiorno lo stato log ed in le informazioni dell'utente eccetera react automaticamente mi fa rendere mi cambia quello che vedo anziché vedere solo il componente della lista dei corsi vedrò la lista dei corsi più piano di studi no dovrò aver fatto una eh un componente che prende log ed in e decide se far vedere solo la lista di corsi o lista di corsi più piano di studi e dicendo la lista di corsi guarda siamo autenticati quindi devi far vedere i più oppure quelli che non si possono inserire e così via ok io sarei per lasciare due root e basta eh se avete delle idee diverse siamo qui per discuterne metterei ancora così a buona norma ma non è indispensabile nel senso l'esame non è che ci interessi diciamo per le pagine che non esiste per le pagine che non esistono visto che è proprio una riga nel router è un componente che ho scritto not found torna alla pagina principale possiamo anche svalterci a metterla ecco diciamo che se copiate gli esempi che abbiamo fatto è già lì no quindi non è neanche da da creare e qui abbiamo finito ecco vorrei farvi notare che è una cosa che ha la complessità del tema d'esame l'abbiamo risolta con due root di cui una è già fatta perché è il login quindi sostanzialmente abbiamo la slash da creare dipende dal tema d'esame ogni tanto ha senso andare a fare delle sottoroute non lo so volete far vedere il dettaglio della singola pagina e vabbè farete la root slash pagina slash id non lo so questo dipende un po' da quello che è richiesto o volete fare voi se non è richiesto vi consiglio di non farlo a meno che diciamo non resti tutto più ordinato piaccia anche a voi e così via e sia semplice però fondamentalmente non è che c'è bisogno di creare chissà quante root questo vale per tutti i temi d'esame non solo questo ma diciamo noi facciamo delle applicazioni relativamente semplici non è facebook la nostra applicazione insomma ci sono due viste abbiamo ragionato un po' come potrebbe comparire le mettiamo su due root o sulla stessa e se c'era una vista di dettaglio ecco una vista di dettaglio potrebbe entrare su una root apposta no? un po' come quella dei filtri però qui non c'è abbiamo detto c'era scritto esplicitamente nel testo mettiamo un bottone per aprire delle informazioni per cui non abbiamo la vista di dettaglio c'era proprio scritto se non ci fosse stato scritto magari a qualcuno poteva venire in mente premo il bottone vado in una root con il dettaglio del corso no? come se fosse la scheda corso del Politecnico per dire questo si poteva fare ma visto che in questo testo noi abbiamo scritto proprio vogliamo il bottone che si apre e rimane sulla stessa pagina ci teniamo la stessa root ok? e un po' lo facciamo anche perché quando facciamo il test è un po' più semplice no? quindi quando mettiamo questi requisiti più che altro per il test non tanto per bloccarvi del fare chissà cosa no? perché perché poi diciamo è più facile verificare cosa sta succedendo se ho tutte le informazioni lì ok quindi eeeh quindi ho pensato alle root lato client devo pensare all'API allora non devo inventare niente per il login mi consiglio di non inventare niente quindi noi ci facciamo io eviterei di fare la login va bene nel template però facciamola come abbiamo visto la lezione no? current eeeh diciamo la post la delete e e poi ci facciamo la get no? eeeh questi per l'autenticazione no? diciamo così dov'è autenticazione ok a breve un pochino poi comunque vi do una soluzione completa probabilmente quella dello studente che l'ha fatta meglio al primo appello dell'anno scorso quindi sarà fatta molto bene non è che dovete per forza raggiungere quel livello prendete 30 lode anche senza quel livello l'ho leggermente ritoccata rispetto a certe cose che non mi piacevano però eeeh vi do comunque una soluzione completa e quindi con tutto incluso i ritmi e e incluso tutto il codice eeeh quindi autenticazione non c'è niente da inventare dobbiamo poi decidere diciamo decidere qui quali quali informazioni ritornare eventualmente oltre al eeeh alle info dell'utente ok perchè questa è un api come delle altre semplicemente va a recuperare informazioni relative all'utente no? quindi la ecco qui scriviamo la vaghet eeeh api no era session non current session no? session current eh ok spero che era così si ok qui posso ritornare solo in informazioni all'utente o posso ritornare anche a informazioni in più ok perchè questo è un utente autenticato quindi per esempio ci potrebbe stare anche il piano di studi che è poi quello che ha fatto il vostro collega l'anno scorso ok però non è indispensabile noi possiamo fare anche una route apposta per il piano di studi ci può stare eh quindi nell'api c'è più variabilità no? mentre nelle route insomma abbiamo due schermate non è che possiamo fare cinque route perchè sennò dovremmo avere cinque schermate no? e nell'api un po' più di variabilità possiamo avere a seconda di quello che vogliamo fare e poi ci servono le route le api per recuperare i dati no? quindi noi avevamo la lista di corsi quindi qualcuno deve dirci quali sono i corsi dell'università no? perchè eh perchè sennò come facciamo a saperli quindi get eh api eh vediamo cosa va scritto così non scrivo ehm courses ok questa non autenticata scusate non lascio tanto ordine poi chiaramente una volta che avete abbozzato vedete che va poi quando siete più o meno che avete più o meno finito il progetto mettete un po' d'ordine in questi file no? mano a mano che andate avanti potete un po' abbozzare no? quindi non autenticata perchè non autenticata? perchè mi deve comparire in un page io arrivo a carico l'applicazione non c'è nessun utente autenticato devo uscire la lista dei corsi come navigate sul sito del politecnico ci sono i corsi e vi guardate i piani di studio e così via no? non autenticata ritorna ritorna la lista dei corsi e io direi che qui ci potrebbero anche essere i vincoli no? e relativi vincoli e devo inventare anzi stabilire ma inventare sembra che faccio chissà cosa stabilire un formato json appropriato sarà sempre il json non inventiamo niente di strano che ci inventiamo le nostre stringhe formattate in chissà quelle mani usiamo sempre il json se anche dovete trasmettere un solo numero o una sola stringa potete farlo in json lo fa tranquillamente il json e vi fa il parsing in json anche del solo numero della sola stringa ok qui questo non è il caso questo sarà un array partiremo con un array in ogni elemento ci sarà un oggetto che è il corso un codice corso un nome numero di crediti e poi degli altri oggetti o qualcosa che ci dice l'incompatibilità e la propiede eccetera queste robe qua ok poi ci penso il formato json tra poco ci arriviamo però vorrei prima concludere il ragionamento sull'api ok quindi penso come funziona l'applicazione per andare avanti non è che sto sognando dal nulla io sto pensando arriva l'utente non ha autenticato tiriamo fuori l'interfaccia cosa c'è da far vedere la lista dei corsi vado a chiederle a serve ok a questo punto se ho posso aprire la descrizione devo venire fuori tutti i vincoli sul corso no li posso però mettere tutti quanti in queste get api courses perché perché tanto la lista dei corsi in ogni corso posso mettere tutto quello che desidero no quindi posso fare anche degli oggetti complessi in json l'importante è che so come sono fatti e quindi il server li crea correttamente e il client li li interpreta correttamente e mi crea l'interfaccia coerentemente come ho fatto l'oggetto ok e questo è quello su cui dovete poi un po' lavorare no e quindi dovete mettere il vostro sforzo di pensiero in quello e poi poi faccio l'autenticazione quindi una volta che faccio l'autenticazione ci sono sempre le liste di corsi di prima quindi qui non è cambiato nulla logicamente non è cambiato nulla cioè se volete quella questione che ha posto il vostro collega prima il server mi deve dire quali sono i corsi incompatibili col piano di studi eccetera ma io per ora ho fatto questa pensata di tenere l'informazione sul client cioè di calcolare anzi scusate l'informazione sul client quindi non di mandarla non di calcolare sul server e trasferirla ma di tenerla sul client ok poi poi magari ho sbagliato poi magari a un certo punto mi accorgo che in tutte le operazioni mi viene comodo a fare diverso perché non è detto che facciate tutto giusto al primo colpo e io per ora ho deciso di tenerla sul client e quindi questa roba il bottone disabilitato il motivo per cui non si può inserire eccetera si può creare sul client quindi non ho bisogno di trasmettere per cui non c'è un API di cosa ho bisogno ho bisogno dell'informazione sul piano dei studi perché una volta che l'utente è autenticato uno avrà applicazioni web l'altro va web application l'altro va un altro corso quindi questa cosa deve essere caricata dal server quindi avrò una get di API lui l'aveva chiamata study plan ok chiamatele pure in italiano va benissimo piano studi gli italiani sono un po' fissati con l'inglese sapete no però insomma va bene chiamate come volete questo è il corso in italiano per cui non ci sono vincoli quindi autenticata ok quindi questa si può chiamare ma bisogna avere una sessione attiva e si chiamerà per sapere quali sono i corsi inseriti nel piano di studi ritorna chiamiamo ah ma l'ha scritto in inglese vabbè lead post finiamo finiamo l'API poi facciamo pausa ehm lead post post no in realtà non l'aveva fatto perché aveva fatto una cosa diversa comunque io sto abbozzando quindi io adesso la faccio ok ritorna la lista dei corsi nel piano di studi del utente autenticato ok eh parametri nessuno opla no eh facciamo annulla ok nessuno prima non l'ho scritto eh però qui io ve lo scrivo mi raccomando un API così non ha nessun parametro guai a chi ci mette sta di plan barra due punti user id eh adesso questo lo so che vi sembra stupido ma ci sono dei casi in cui non è così ovvio eh tipo quando andate a fare che so la modifica eh non lo so di qualche elemento e volete dire anche di che utente è no se è autenticato di che utente è lo sa il server punto e basta è l'unico posto dove possiamo tra l'altro recuperare questa informazione in maniera affidabile e sicura perché chiunque può mandarci qualsiasi parametro sull'URL per cui guai eh questo è una cosa che è un errore grave ok ed è nella lista abbastanza all'inizio di quelli most frequent errors errori frequenti ok mi raccomando eh non c'è questa informazione perché perché l'informazione c'è già è nella sessione la recupererà il server e serve a quel rec.user punto id punto quello che volete per identificare l'utente e da lì poi va nel db si tira fuori l'informazione del piano di studi e così via ok benissimo e a questo punto siamo arrivati alla seconda visualizzazione perché io so come mettere la lista di corsi e già l'altra API magari ce l'ho già nello stato non è neanche il caso di ricaricarla ecco questo potrebbe essere un dubbio che vi viene in mente ma ricarico la lista dei corsi quando faccio l'autenticazione sarebbe una cosa che potreste veramente chiedere sulla chat su come commento eccetera io qui vi direi la lista di corsi si intende abbastanza statica per cui non è il caso di ricaricarla se non quando caricate l'applicazione ok non è che tutti i momenti mettiamo un nuovo corso nei corsi offerti al Politecnico si fa ogni tanto e va bene quando riapro l'applicazione mi verrà fuori il nuovo corso però non è una cosa dinamica come il piano di studi per cui voi fate delle modifiche salvate cancellate e così via potete anche ricaricarla non c'è nulla di male l'API c'è esiste già sono un po' di righe di javascript lato client ci può stare ok e poi e poi devo fare andare funzionare diciamo così i bottoni no salva salva annulla si rannulla o cancella in realtà c'era anche la selezione del tipo di piano di studi full time part time ok quindi in realtà qui c'è un bottoncino ancora un interruttore o qualcosa e che mi deve dire cosa fare allora sicuramente devo salvarlo quindi non mi scampo una post crea un nuovo piano di studi ok perché all'inizio può anche non esserci api questa cosa una cosa allucinata api study plan ok autenticate ovviamente e salva il piano di studi studi corrente e tra l'altro nel testo diceva che se c'era già un piano di studi veniva rimpiazzato rimpiazza rimpiazza l'eventuale esistente ok poi si dice che poteva anche cancellare il piano di studi senza creare qualcosa di nuovo quindi ci sta tranquilla una delete no ma la delete è una delle api più semplici da realizzare arriva e verifico che sia autenticata vado nel db e faccio fuori una riga quindi non c'è tanto o fallisce o se funziona ha già finito study plan vabbè lo study plan magari è un po' più complesso con più righe però diciamo con un where me la cavo autenticata cancella il piano di studi distruggi ma no cancella va bene ok quindi c'è il bottone salva c'è il bottone cancella il bottone annulla ecco il bottone annulla cosa voleva dire intanto il bottone annulla se non me lo ricordo vado a rileggermi il testo l'utente può annullare le modifiche correnti in tal caso la copia persistente non deve essere modificata quindi non c'è bisogno di andare a dirlo al server perché la copia persistente sta sul server se io adottavo la soluzione del vostro collega di prima che avevo la copia temporanea dovevo andare a distruggere la copia temporanea per ripartire da uno stato in cui non c'erano modifiche motivo in più per cui se prima avessi avuto il dubbio magari ci ripenso e dico ma aspetta un attimo magari se tengo tutto sul server tutto sul client perdono è meglio no? e salvo solo quando ho finito di pacioccare nel mio piano di studi ok quindi per l'annulla non c'è un api perché l'annulla è un'operazione lato client ok? c'è ancora una questione la modifica come gestisco la modifica nel senso io ho un piano di studi cosa ho applicazioni web come si chiama software engineering cosa che avete voglio fare web application 2 se voglio aggiungere un altro corso ok io lo faccio nell'interfaccia apriamo il bottoncino più mi viene lo stato con la lista si aggiunge alla lista faccio tutte le mie faccende dello stato dell'applicazione viene fuori un elemento più nella lista poi faccio salva ma il piano di studi esiste già allora devo decidere solo come gestirlo in realtà l'ho già scritto perché quando scrivo rimpiazza l'eventuale esistente si ho una nuova lista con questa post quando schiaccio salva c'è una nuova lista prendo la vecchia la cancello e metto la nuova lista boh ci può stare ok potrebbe andare bene così potrei lasciarlo così il vostro collega ha usato una soluzione un po' diversa un po' più originale però che ci sta anche quella però per noi diciamo prima battuta va bene così ok se rimpiazzo l'importante è che faccio tutto nella stessa nella stessa api lato server cioè non è che mi faccio due api uno cancella cioè c'è la cancella ma non voglio dal client chiamare la cancella e poi la crea perché perché mentre tra un'api e l'altra possono succedere delle cose ci sono i corsi a numero chiuso no questi ecco questo forse magari ce l'avranno scordati magari all'inizio non ci pensate poi rileggete il testo questo in effetti è un dettaglio da non trascurare perché poi vi crea qualche problema se non ci avete pensato all'inizio però può capitare avete tre settimane una bozza la stiamo facendo in un'ora e mezza tre ok dov'è che c'erano i corsi un corso può avere un numero massimo di studenti che possono inserire nel piano di studi no questo può sembrare un dettaglio ma purtroppo una cosa che ha tante implicazioni ok queste cose dovete come dire vederle un pochettino o mano a mano che è andato avanti a un certo punto vi accorgerete e purtroppo questo vi crea un po' di lavoro se ve la siete scordata ma comunque il lavoro lo crea anche se ve la siete ricordata perché c'è qualcosa in più da fare allora questo massimo di studenti è il fatto che dobbiamo tenere su database il numero di studenti che hanno ciascun corso o se non tenere almeno essere in grado di calcolare quindi prima di tutto se faccio un'operazione come quella che dicevo prima faccio prima una delete e poi una post per il nuovo piano di studi qualcuno mi può rubare l'ultimo slot del corso di web application 2 e io non mi posso più iscrivere mentre se facevo l'aggiornamento nessuno si infila e io mi posso iscrivere perché non c'era ancora il nuovo studente cioè o arriva prima io o arriva prima un altro quindi motivo in più per fare l'API come si deve ok seconda cosa c'è questo massimo di studenti e questo massimo di studenti dove lo metto dove lo verifico è un'informazione di cui ho bisogno nel client ecco questa è una cosa tra le più delicate che abbiamo in questo tema di esame nel senso che di per sé io potrei caricare all'inizio l'informazione come faccio nei corsi ci sono le incompatibilità c'è anche il numero di iscritti e il massimo numero di iscritti se il corso ha un numero massimo di iscritti e poi non fare nulla fino a quando non salvo il piano di studi e il piano di studi mi va bene o mi va male fino a quando io non decido di salvarlo e quando salvo farò tutti i controlli lato server per verificare se tutti i corsi che hanno un numero massimo di studenti mi consentono di scrivermi ok questo ci sta questa ovviamente la post di solito le post sono le più difficili da scrivere ve lo dico già perché creano un oggetto prima di crearlo devono verificare che si possa creare e che vada tutto bene perché una volta che la cioè fanno una modifica forte nel db non è leggo una cosa e faccio una select e ho finito al massimo faccio una join e un po' di cose e ho finito devo ragionare in termini della logica dell'applicazione pensate è sempre la solita applicazione sono autenticato faccio più aggiungo un corso quindi faccio più aggiungo un corso intanto ci sono già io in più e quindi devo dire ok c'era web application 2 mi lasci il più attivo solo se c'era almeno un posto perché se io mi iscrivo no e non posso iscrivermi se non ci sono più posti questo numero 1 e poi io mi iscrivo e e se nel frattempo qualcuno mi ha fregato il posto devo decidere cosa fare nel senso lo scopro quando salvo o lo scopro quando aggiungo questa è una scelta che dobbiamo fare ad un certo punto no possiamo cominciare con la cosa più semplice lo scopro quando salvo tanto quando salvo devo riverificare tutto perché è un API indipendente dalle altre quindi io questa verifica la faccio comunque quindi io potrei fermarmi qui in questo momento e dire mi sembra di avere tutte le API che mi servono perché quando salvo comunque verifica se c'è posto bene aggiungo più 1 che sono io se c'è un più 1 da mettere se no fa il calcolo da solo il db non lo so comunque faccia e dirò va bene o non va bene no perché io tanto non lo so e non lo posso sapere nella mia applicazione se qualcun altro mi si infila e mi prende il posto come quando prenotate il biglietto del treno e prenotate i posti l'aereo e così via e chi lo sa se qualcun altro ha comprato il biglietto o no finché non premo compra non lo so se il posto c'è o non c'è se mi dicono ok vuol dire che me lo tengono se mi dicono non ok vuol dire che non c'è non c'è più qualcun altro me l'ha preso quindi questo ci può stare ecco questa forse potremmo dire che rientrano nelle best practice di cui parlavamo all'inizio poi facciamo la pausa che abbiamo finito l'API noi abbiamo detto quando facciamo delle modifiche in cui ha senso andare a chiedere al database se qualcosa è cambiato facciamolo ok quindi io questa la classificherei come best practice non è una cosa strettamente obbligatoria ma è direi apprezzata come ha fatto peraltro il vostro collega quando aggiungete un corso di quelli che ha un numero massimo di studenti magari prima di dire che l'abbiamo aggiunto al tuo piano di studi magari vai a chiedere al server quanti studenti ci sono su quel corso anche se lo so che poi può cambiare perché finché non schiaccio salva io nel corso non sono iscritto però però questo potrebbe essere una cosa ragionevole da fare che non succede sempre non è che sono sempre lì a chiedere però sto facendo una modifica nell'interfaccia in cui potenzialmente mi porto in uno stato che potrebbe essere incoerente con quello del server perché qualcun altro ha fatto delle operazioni nel frattempo ok e questo tipicamente sono i valori condivisi tra più utenti avevamo a lezione l'app vote il voto che lo danno tutti quindi se voglio il valore ultimo devo andarlo a chiedere al server se voglio il numero di iscritti effettivi a quel corso devo andarlo a chiedere al server il server è l'unico che sa se altri si sono iscritti ok quindi questo potrebbe starci come una buona pratica e per farla però ho bisogno di un API in più o aggiorno quindi faccio in modo che nelle get API courses ci sia diciamo anche il numero di iscritti e richiamo le API courses anche se mi da tantissime informazioni in più di quelle di cui ho bisogno oppure mi faccio che so un get API sai che va scritto course numero di dove sono andati ah ma lo sono perso mi sa che non l'ho copiato vabbè read me numero no ah no vabbè io l'ho ancora modificato vabbè courses nom enrolled vostri colleghi aveva fatto così poi io ho fatto ancora una modifica ma va bene allora questa è non autenticata studenti non autenticata e ritorna ritorna solo il numero di studenti iscritti ai corsi con un max ok questa è una proposta che vi faccio nella parte dell'API probabilmente c'è la variabilità maggiore diciamo tra le proposte che farete di soluzione del tema d'esame perché questa è una proposta poi io posso fare la get farmi una nuova API come questa courses nom enrolled per dirmi va bene mi faccio solo mi faccio una route apposta lato server per darmi solo il numero di iscritti potrei farmi una route per farmi dare il numero di iscritti di un solo corso che è quello su cui ho premuto il bottone più per sapere se quello posso aggiungerlo potrei fondere le due cose che come ne ho fatto nella soluzione che vi do per esempio con un parametro dire che se ci metto punto interrogativo filter o cos'è che ho scritto non filter ma format solo enrolled solo gli studenti iscritti mi dai solo gli iscritti se no mi dai tutte le informazioni oppure potrei semplicemente riciclare l'API courses è vero che mi carica tanti dati e e io mi prendo solo la informazione sugli iscritti quindi c'è già l'API devo solo ricordarmi di chiamarla al momento buono quest'ultima forse è un po' meno bella però stiamo parlando di estetica nel nostro corso non stiamo parlando di una cosa che vi cambia il numero di punti che prendete per 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 il progetto perché perché diciamo che se avete mille corsi ricaricate mille corsi per cosa per sapere l'informazione che è un numero del corso che vi interessa ecco questo potrebbe per esempio essere una domanda per l'orale no perché ha voluto ricaricare tutti i corsi e non ha voluto farsi un API per sapere qual è il numero iscritti al singolo corso uno dà una risposta spero che la risposta sia non ci ho non ci ho pensato e basta no però vabbè se mi dite non ci ho pensato ma quali potrebbero essere i vantaggi e svantaggi se uno sa argomentare un pochino questa cosa no è una cosa che se tutto il resto va bene fa propendere per il 30 lode se invece uno non ha più pallida idea ecco vabbè magari il video 30 lo stesso perché tutto il resto va bene insomma vi orientavate nel codice ok però dovete capire qual è il vantaggio e svantaggio di ogni soluzione no quindi in un caso se ho mille corsi devo recuperare mille corsi del database nell'altro caso in effetti poteva essere un'idea andare a chiedere solo l'informazione del corso che è stato oggetto di modifica quindi da parte dell'utente quindi che voleva aggiungere ok ok qui API abbiamo finito poi possiamo fare delle variazioni ma io vi lascerei riflettere un attimo anche perché abbiamo già fatto un'ora e tre quarti eh e e dopo eh e dopo in realtà si tratta di andare a mettere in pratica quello che quello che abbiamo pensato beh no c'è ancora il DB ma lo facciamo dopo dopo ma il DB una volta che abbiamo fatto le nostre pensate il DB è una conseguenza ok quindi si tratta solo di di fare quelle tre quattro massimo tabelle perché io non credo che abbia mai dato ma forse può darsi che ci fosse un tema design con cinque tabelle perché c'è una relazione molti a molti va bene però diciamo più di cinque tabelle sicuro che non ci sono e una di queste è quella degli utenti e quindi insomma il resto dipende dal codice cioè da da cosa facciamo ok allora io vorrei un po' di pausa così intanto fermo la registrazione vi metto online quello sketch che ho fatto ovviamente se avete dei dubbi non perderei troppo tempo sul codice del singolo eccetera se avete dei dubbi di carattere generale cerco di rispondervi ok va bene facciamo un po' di pausa per voi e per me vi ricordo il CPD eh grazie